Non essendo dimostrabile né una disabilità intellettiva, né un disturbo psichiatrico maggiore, né un grave disturbo di personalità, è possibile affermare che Alessia Pifferi al momento dei fatti per i quali è imputata era capace di intendere e di volere, ed è totalmente capace di stare in giudizio. Questa è la conclusione a cui è giunto Elvezio Pirfo, lo psichiatra nominato dalla Corte d'Assise di Milano per la perizia psichiatrica su Alessia Pifferi, la madre milanese sotto processo per l'omicidio volontario aggravato di Diana, la sua bambina di 18 mesi. La donna aveva lasciato la figlia da sola in casa per una settimana, dal 14 al 21 luglio 2021, per raggiungere il compagno nella Bergamasca, causando la morte della piccola Perinedia. In preda alla fame, la bambina tentò di mangiare il cuscino e pezzi di materasso, rinvenuti successivamente nello stomaco dalla perizia medica. Secondo la difesa, la donna sarebbe completamente incapace di intendere e volere, affetta da un grave ritardo mentale che la renderebbe simile a una bambina di appena 8 anni, priva di autonomia e ancor meno in grado di badare a se stessa o a un neonato. Tale argomentazione, da parte degli esperti della difesa, si basa anche sulle valutazioni delle psicologhe del carcere di San Vittore, dove la donna è detenuta dal giorno del suo arresto. Queste due esperte sono ora sotto indagine per falsificazione e favoreggiamento, in quanto si ritiene che abbiano utilizzato testo obsoleti e inadeguati per giungere a tali conclusioni. Se la tesi della difesa avesse prevalso, avrebbe garantito ad Alessia Pifferi una significativa riduzione della pena, se non addirittura l'assoluzione per incapacità di intendere e volere. Nonostante la decisione del PM Francesco De Tommasi di mettere sotto accusa le due esperte e l'avvocato difensore, Alessia Pontenani, la perizia di Elvezio Pirfo sembra fornire alcuni chiarimenti cruciali su questa dolorosa e sconvolgente vicenda. Prima di esaminare dettagliatamente la perizia, è importante sottolineare che Elvezio Pirfo è uno psichiatra estremamente esperto, già coinvolto nell'esame di Anna Maria Franzoni, la madre responsabile dell'omicidio di Cogne. Innanzitutto, il perito ha concluso che Alessia Pifferi si focalizza sul ruolo di donna bisognosa di un uomo in grado di soddisfarla in ogni modo e in quei momenti abdica al suo ruolo di madre. Questo aspetto sarebbe emerso durante un colloquio con il medico, quando le venne chiesto cosa pensasse durante quei giorni in cui si trovava a Leffe dal suo compagno, mentre sua figlia era sola a casa. La risposta dell'imputata è stata, la mia testa era come spenta da quel lato, da quel punto di vista come mamma, era accesa solo la testa di donna in quei giorni. È importante precisare che Alessia Pifferi non presenta alcuna patologia psichiatrica che giustifichi un comportamento simile. Il suo agire è stato guidato dal vissuto, come indicato dallo psichiatra, il quale afferma che la Pifferi ha percepito il proprio contesto sociale come affettivamente deprivante, portandola a considerarsi una ragazza e donna dipendente dagli altri, soprattutto dagli uomini. La sua personalità mostra tratti di alessitimia, ossia una incapacità di esprimere emozioni e provare empatia. È importante notare che l'alessitimia non è considerata una patologia in sé. Il termine si riferisce a persone che hanno difficoltà a esprimere le proprie emozioni e, contemporaneamente, a interpretare le emozioni degli altri. Ciò implica che non sono empatiche e comprensive. Secondo la psichiatria moderna, questa condizione non compromette la capacità di comprendere. Inoltre, lo psichiatra afferma Il suo funzionamento mentale è coerente con il suo grado di acculturazione ed esperienza. Nel primo incontro, avvenuto il 6 dicembre 2023, Alessia Pifferi ha condiviso dettagli sulla sua infanzia, spiegando di non aver mai instaurato rapporti positivi con la sorella. Già da piccola sono sempre stata messa di lato. Allora io sono una bambina cresciuta in famiglia, solo che sono sempre stata il pulcino nero di casa, anche se mi sono sacrificata tanto per stare in casa, per mamma, perché nel 2000 ha avuto un incidente. Successivamente ha chiarito di non avere mai sviluppato un autentico legame affettivo con la madre, ma unicamente con il padre. Io ero la cocca di papà e mia sorella era la cocca di mamma. Ha ricordato le liti tra i genitori. Mio papà non si sa dove buttasse i soldi e ogni volta erano discussioni o mani addosso e io ero lì ad assistere. Quindi ha parlato delle sue difficoltà relazionali con la scuola e ha rivelato di essere stata vittima di abusi perpetrati da un amico di famiglia proveniente da Palermo durante la sua adolescenza. Ha narrato le vicissitudini del suo matrimonio, terminato, sembra, a causa di un presunto aborto spontaneo. Poi ha affrontato il tema della nascita inattesa e improvvisa della piccola Diana, avvenuta nel bagno della casa del compagno. Pur essendo il racconto ricco di dettagli, manca di qualsiasi forma di empatia. Ecco il resoconto. L'ho chiamato d'urgenza. Presi il telefono e gli dissi Vieni su che è nata la bambina. È nata proprio nel suo vc, nel suo vater. Avevo paura, ero spaventata, terrorizzata, anche perché non sapevo di essere incinta. Poi ha dichiarato che l'uomo non avrebbe mai accettato la presenza della bambina, tanto da persuaderla a credere che potesse lasciare Diana da sola. Diciamo che è stato lui a farmi venire in mente questa cosa, perché quando eravamo insieme all'Effe e la bambina era già grandina, intorno all'anno, l'anno e mezzo, lui mi propose due o tre volte di lasciarla a casa per andare a fare la spesa perché lei dormiva. Il professionista di psichiatria le ha domandato se la nascita di Diana avesse comportato un cambiamento nella sua vita. La sua risposta è stata chiara e senza ambiguità. Quando è nata la bambina, dentro di me, mi sono trasformata in cuore di mamma. Ho accettato la cosa, e comunque è stata un'emozione, e anche se la bambina è arrivata all'improvviso, sono riuscita ad accettare la realtà di cosa succedeva. Mia figlia era sempre con me, non mi staccavo mai. Quando siamo tornate a casa con mia mamma, ero anche gelosa se la prendevano in braccio. È stato difficile. Dunque, secondo quanto affermato dalla donna, il suo comportamento subiva variazioni quando si trovava in compagnia del fidanzato. Il perito cercava di comprendere cosa fosse accaduto nel momento in cui ha dimenticato la presenza della bambina portandola a un tragico destino. La sua spiegazione è Quando ero con quell'uomo, lui aveva il potere e la mia mente era come spenta, annullata, nel senso che perdevo lucidità come mamma. Aveva questo potere. Quando lui è rientrato nelle nostre vite, la mia mente si è come spenta verso la bambina. Quando stavo con lui, mia figlia spariva dalla mia mente ed era strano perché io ero una mamma protettiva, lei stava sempre con me, anche in bagno. Il professionista le ha anche domandato il motivo per cui, in precedenza, era tornata dalla figlia, mentre in quella circostanza no. La risposta di Alessia Pifferi è stata Anziché tornare, i giorni si sono prolungati perché la mia mente aveva dimenticato di essere mamma, non so perché. Particolarmente significativa è stata la risposta alla domanda successiva. Lei mi sembra lucida, presente a se stessa, con ricordi precisi. Perché allora si spegne la mente? La risposta. La mia mente si spegneva dall'essere madre, come se non fossi più madre, non so perché. Le altre volte pensavo alla bambina, ma avevo paura di parlare con lui. Temevo una sua reazione, perché in passato era stato sgarbato. Perdere mia figlia non è stata una cosa né premeditata, né pensata, né niente. Di fronte alla domanda diretta su cosa pensi possa aver causato la morte, la donna risponde. Sono stata distante troppi giorni e la bambina non aveva sufficiente latte. Se fosse un'altra persona, cosa penserebbe di sé? Che ho avuto la mente spenta dal ruolo di madre, che contava solo Alessia forse, come se donna e mamma fossero due persone separate, la mente si è riaccesa mentre stavo tornando, e allora sono corsa da Diana, ma purtroppo era tardi. Il perito ha successivamente domandato se il suo ritorno fosse stato determinato dal fatto che il fidanzato l'avesse allontanata. Alessia Pifferi ha ammesso. Sì, mi ha detto che doveva lavorare. Io pensavo di trovarla viva, speravo lui facesse da padre a lei e a me, ma poi mi è venuto il dubbio che Diana potesse star male, solo mentre tornavo. L'esperto, Elvezio Pirfo, ha commentato anche l'operato delle due psicologhe di San Vittore. Ha confermato quanto già affermato dagli esperti dell'accusa, ossia che i test sulla disabilità condotti in carcere all'imputata per dimostrare un grave deficit intellettivo non sono stati eseguiti con una metodologia corretta e pertanto sono considerati inaffidabili. Questa posizione è stata ribadita anche durante l'ultima udienza del 4 marzo. Infine, ha tratto le sue conclusioni. Alessia Pifferi ha tutelato i suoi desideri di donna rispetto ai doveri di accudimento materno verso la piccola Diana. La prospettiva di una condanna all'ergastolo è evidente. Inoltre, il PM Francesco De Tommasi insiste sulla possibilità che la difesa e le psicologhe del carcere l'abbiano influenzata, sottolineando che quest'ultime sono, come già menzionato, oggetto di indagine. Nell'ultima udienza ha dichiarato Vi fornirò la prova nero su bianco che Alessia Pifferi ha fatto delle affermazioni che sono precostituite e che sono state imbeccate. Gelo con Alessia Pontenani che assicura L'imputata non voleva uccidere la figlia. Come finirà?